Buona giornata a tutti voi e bentrovati all'appuntamento con l'informazione di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa di Ocesana di Pescara Penne, da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza. Sono oltre 400 le famiglie povere abruzzesi piegate purtroppo dall'emergenza Covid che per la settimana di Pasqua e Pasquetta potranno mettere in tavola i migliori prodotti agroalimentari made in Italy e passare feste più serene grazie all'operazione di solidarietà del sistema agroalimentare italiano presentata al Premier Draghi dal Presidente della Coldiretti Ettore Prandini e dal Segretario Generale della Coldiretti Gesmundo. L'iniziativa promossa dalla stessa Coldiretti, filiera Italia e campagna amica con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del nostro Paese ha visto la spedizione del primo carico di aiuti alimentari dal cortile di Palazzo Chigi a sostegno di chi ha più bisogno e ha coinvolto tutte le regioni italiane, quindi anche l'Abruzzo. Nella videoconferenza di ieri tutte le regioni si sono espresse contro l'ipotesi di abolire la zona gialla per tutto il mese di aprile come proposto dalla Ministro della Salute Speranza. Chiedo che il Governo tenga conto di questa posizione molto ampia, se non unanime. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marsilio. Si tratterebbe, ha aggiunto, di una misura ingiusta e inspiegabile verso cittadini e aziende che hanno fatto sacrifici e rispettato le regole e che ora giustamente pretendono di riprendere le attività dove il quadro epidemiologico lo consente. La decisione assunta dalla Giunta regionale, oltre ad essere in palese contraddizione con gli indirizzi del Governo e le stesse dichiarazioni e rassicurazioni della Giunta regionale, non è condivisibile perché introduce elementi di valutazione arbitrari che ampliano la fascia delle priorità, aprendo una contraposizione tra categorie e perdendo di vista i criteri di fragilità dell'età e dell'esposizione al rischio reale. Lo affermano i segretari regionali di SPICGL, Antonio Iovito, FNP CISL, Mario Gatti e Wilp Wil, Germana Temporin, intervenendo sulla vicenda delle vaccinazioni ai giudici e magistrati. Si apre quindi anche in Abruzzo, scrivono i tre sindacalisti, nonostante il chiaro indirizzo ribadito recentemente dal Presidente del Consiglio Draghi, un sistema di aggancio, tra virgolette, alle figure socialmente più forti e non socialmente più esposte al rischio. E vediamo i numeri della pandemia. Si registrano rispetto all'altro ieri 224 nuovi casi di età compresi, compresa tra 1 e 97 anni. I positivi con meno di 19 anni sono 45, due dei quali in provincia di Pescara. Il bilancio dei pazienti deceduti registra purtroppo 17 nuovi casi e sale a 2100. I 17 nuovi casi sono di età compresa tra 61 e 102 anni, 4 in provincia di Pescara. Di questi 17 casi, 5 sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi, ma comunicati solo ieri dalle ASL. 311 sono i dimessi ugualiti in questi giorni. Attualmente positivi in Abruzzo sono in calo di 104 unità. Eseguiti 3.002 tamponi molecolari e 582 test antigenici con tasso di positività al 6,2%. Sale di 7 attestandosi a quota 620 il numero dei pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. Aumenta di 1 e si attesta a quota 78, quello invece dei ricoverati in terapia intensiva dove ci sono stati i sei nuovi ricoveri. Gli altri 9.864, 112 in meno, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. «È assurdo e inconcepibile autorizzare i viaggi all'estero nello stesso momento in cui si vieta, per ragioni di emergenza sanitaria, qualsiasi spostamento all'interno del territorio nazionale», lo afferma il coordinatore degli assessori regionali al turismo, Daniele Damario, commentando la nota del Ministero degli Interni che autorizza gli spostamenti da regione a regione per raggiungere l'aeroporto per i viaggi all'estero per motivi turistici. In sostanza, insiste il coordinatore nazionale degli assessori al turismo, «si può andare in spiagge esotiche ma non è ammesso raggiungere i propri cari nel periodo pasquale se questi vivono in Italia». Tutto questo viene autorizzato e ammesso a danno del turismo italiano e in particolare del comparto alberghiero, da mesi paralizzato dalle norme sulle restrizioni della mobilità. Quest'ultima decisione, conclude Damario, rischia di minare ancora di più la fiducia degli operatori turistici nazionali ormai allo estremo. Il coronavirus c'è, continua a serpeggiare attorno a noi, tra le persone, nell'ambiente e continuerà a farlo anche con l'arrivo della bella stagione. Dunque l'estate e il caldo non uccideranno il virus, piuttosto che il soleggiamento può favorire una riduzione della carica e della contagiosità del Covid grazie anche all'innalzamento della barriera immunitaria di ciascun individuo. E quanto, secondo il Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Pescara, Ivo Petrelli, è stato detto in un'audizione fatta in quella sede dal dottor Paolo Fazzi, responsabile del laboratorio di analisi e microbiologia dell'ospedale civile di Pescara. Rilevando che la variante inglese, responsabile dell'84% dei casi e che ha il 70% in più di contagiosità, il dottor Fazzi, secondo Petrelli, ha anche affermato che per interrompere la circolazione del virus, va avviata proprio la vaccinazione dei giovani, che sono il principale ricettacolo di contagio. Fazzi avrebbe anche ricordato che, a giudizio della struttura tecnico-scientifica, le scuole dovevano essere chiuse prima e devono restare chiuse, proseguendo con la DAD. È sostenuto che il problema non è semplicemente il luogo scuola, ma sono i trasporti. Il dottor Fazzi avrebbe anche detto che è possibile cominciare a pensare a una riapertura in sicurezza per palestre, stadi e impianti sportivi, specie le strutture all'aperto e dove comunque è possibile oggi contingentare gli ingressi e sono state installate anche tutte le strutture utili a garantire la sanificazione e l'igiene degli utenti. I dati di lega ambiente contenuti in una pagella consegnata simbolicamente al sindaco di Pescara fotografano una città che deve incrementare gli sforzi per ridurre il livello di inquinamento, limitare gli spostamenti in auto e favorire un trasporto pubblico locale a zero emissioni, alti costi sanitari e sociali legati all'inquinamento, perdita di anni di vita, a ricoveri di giornate di lavoro, il 4,3% del PIL pro capite come valutato da uno studio europeo commissionato da EPHC e DELF. A questi costi nel 2020 si sono aggiunti quelli della pandemia da Covid, la concentrazione media di PM10 registrata a Pescara negli ultimi cinque anni ancora critica con un tasso di motorizzazione che vede 62 automobili ogni 100 abitanti, dato molto alto per una città costiera collegata da rete ferroviaria. Una percentuale di auto così elevata impatta sul numero di morti e feriti sulle strade legate agli incidenti 572 nel 2019 a Pescara. Tra i dati incoraggianti le nuove piste ciclabili, l'offerta di Sharing Mobility con 500 monopattini e le e-bike del progetto Pesos premiato con l'Urban Award 2019, in cui si aggiunge la partenza imminente della velo stazione di Porta Nuova e l'attività della bike station della stazione centrale. Sono 18 le osservazioni presentate da associazioni, aziende e singoli cittadini sul piano della mobilità sostenibile approvato dalla Giunta Masci. Lo hanno rivelato i tecnici in una riunione della nuova seduta della Commissione Mobilità. Attualmente gli uffici, con l'ingegner Rossi e l'architetto Fabrizio, hanno aperto l'istruttoria delle proposte di modifica al piano e non appena la procedura sarà completata verrà esaminata in commissione per poi prodare in Consiglio Comunale con l'accoglimento la bocciatura motivata delle istanze. È di fatto l'ultimo passaggio del documento complesso che contiene scelte infrastrutturali strategiche che comunque vanno incidere sul tessuto cittadino di Pescara, lo ha detto il Presidente della Commissione Mobilità Armando Foschi. Sono 20 i lavoratori disoccupati messi alla prova di selezione per partecipare all'iniziativa Riparti con l'Export Corso di Formazione Riservato ai Disoccupati e Percettori del Reddito di Cittadinanza, organizzato da Ampal Servizi e AES, azienda per la promozione. Obiettivo? Formare specializzati che sappiano gestire tutti i problemi legati al mercato dell'export per le piccole e medie imprese. Ieri mattina sono stati murati a Montesilvano gli ingressi dell'Ex Hotel Paradiso, occupato abusivamente fino a qualche settimana fa da alcune persone senza fissa dimora. Sono stati intensificati anche i controlli di vigilanza nelle aree esterne. L'Ex Hotel, attualmente in stato di abbandono, fu costruito nel 59 e acquistato dalla Aslan nel 2004 per 1.200.000 euro con l'obiettivo di convertire la struttura a ricovero per persone con disturbi psichiatrici. Il progetto però non fu mai realizzato. Tre piani, 27 camere, un giardino con piscina. L'edificio non rispettava le normative antisismiche e le leggi in materia di barriere architettoniche. Nelle prossime settimane, spiega il sindaco De Martinis, saremo in grado di dare risposte certe con l'Asl di Pescara sulla destinazione d'uso dell'immobile. E veniamo alle previsioni del tempo. Sull'Abruzzo si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, con possibili foschie al primo mattino sulle zone pede e collinari che si affacciano sul versante adriatico. Durante le ore centrali della giornata, nel corso del pomeriggio, saranno possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi in attenuazione nel corso del pomeriggio sera. Poche novità domani. Proseguirà il tempo stabile con temperature massime in ulteriore aumento. Temperature stazionarie o nieve aumento, venti deboli di direzione variabile orientale, mare quasi calmo o poco mosso. Questo ci dicono i dati di abruzzometeo.org Ed è tutto. Grazie per averci seguito e a risentirci.